Bella raga, allora siamo qui riuniti per celebrare le nostre 14.000 coppe e apriremo anche la mega cassa ragazzi Allora oggi, cioè ieri o oggi, non lo so, dipende da quando pubblico il video, mi sa domani, cioè vabbè è un casino Ho trovato Jackie, eccolo qua, grado 6, no perché ho messo prova E andremo a fare le 14.000 grazie a Jackie Raga, secondo me è fortissima Quindi vediamo un po' che cosa combiniamo È bellissima poi, cioè la martellata, bang Uno, due e via Qua c'è un Mr. P Oh, combattuta Questo c'è la ulti e bisogna stare attenti Oh, come godo, mamma mia raga Che fight, che fight Tra i due Jackie Combattuto, combattuto Vediamo se qua c'è qualcuno, lo sapevo No, fa attettarmi così Si sta voltando Boh Vabbè, ora diventa un po' più difficile perché ci sono un casino di Jesse Quindi il video sarà figo Provare questo Intanto raga, mancano 10 coppe Una vittoria e facciamo i 14.000 precisi Allora raga Giochiamola sulla tattica Facciamoci un po' di power up Qua due Jackie raga Una mappa solo di Jackie? Probabile 8 di vita Dg Sono morto Sarà complicatissimo raga Appena fight a una arriva un'altra Vabbè, andando avanti di 3 così raga Ci sta 7 coppie di effetto Allora Vediamo un po' cosa si fa Bello spawn di schifo Perché è uno spawn abbastanza schifoso Oh, il primo non Non Jackie della partita Non muoio, sicuro No Difficile Anche è bella aperta come mappa Quindi bisogna stare attenti No È bellissimo Mi frega Se è questo Raga, questa partita è strana Se facciamo una terza posizione Ecco Io devo concentrarmi Prima di parlare Oh, ma che palle questo La bea Che strano raga Oh, attenzione No, ma perché Ecco, la ulti per esempio Non mi piace tanto Però Jackie è forte In sé per sé Più 7 raga Mi ci credo Eccolo qua Il più 7 che aspettavamo 14.000 coppe Un bello screen 14.000 Al momento Io sono un manioco Di screen Quindi devo fare uno Un po' Finché non vengano bene Oggi ho trovato Jackie Se trovo qualcos'altro Raga, giro No, vabbè No, vabbè raga Non ci credo No, vabbè raga Non ci credo Non ci credo Non ci credo Ma che cos'è oggi Non ci credo No, vabbè Mi manca solo Sandy Due brawler In un solo giorno Due brawler In un solo giorno Non ci posso credere Non ci credo Non è vero Mi poteva droppare Sandy Raga Che pizza No, anzi Sono felicissimo 14.000 coppe Mi manca solo un brawler Dai che me ne mancavano tre Oh, a sto punto Andiamo pure a provarlo Se non qua magari Selezioniamo Vediamo quanta probabilità C'ho di trovare qualcosa Eppure altina Cioè, insomma Dipende Mamma mia raga Allora, livelliamoci Jackie Sbango, sbango Sbango Livello 5 Mazzo Livello 5 Selezioniamo Raga, andiamo a provare Si vola raga Mamma mia Non ci credo Non ci credo Pure Mr. P Oggi che cos'è Due brawler in un solo giorno Non ci credo Video registrato ovviamente Il 17 marzo Se vedete il video Un po' più tardi È normale O domani Mi sa che lo pubblico Cioè, oggi Ho registrato il video ieri Quindi La cosa Perché oggi Già ho pubblicato Quello di Jackie In questi giorni In questi giorni Raga Corona time Quindi Andate un po' calmi A casa Raga Mi piace Mi piace un sacco Non ci credo Però Che fortuna Non so che mi è capitato Non so che mi è capitato Non mi trovo un brawler Da non so quanto E oggi Boom Tutti difficoltori Tutti brawler Ma che cos'è sta roba C'è un lato di uno Haha Let's go E una vittoria Eh ma così le coppe Proprio Boom Salgono di botto Non ci credo Cioè Che goduria Quale goduria 14.000 coppe Proprio una goduria Mamma mia Mille monete Ammazza Qua sono tante Raga Vediamo di Upgradarci Qualche brawler Che mi piace Allora Io mi farei un 9 Rosa Ok Finisco le monete Sono un matto No Neanche mille Raga Dal 6 al 9 O dal 7 al 9 E' buono Un mazzo Mister P Raga Pure Cioè pure Oggi il gioco Mi ha voluto proprio bene Ma meno male Che mi ha droppato Due brawler Era da tantissimo Che non trovavo niente Però cavolo Mi poteva droppare Al posto di questi due Una bella Sandy Tanto poi Un brawler superato Spero che si trovi Quindi Vabbè Vabbè Mi va benissimo Così Non mi lamento Faccio un po' Cambio Sveglio No Vabbè No Vabbè Vabbè Mr. P Yep Yes Yes Spregare tutti i punti stellari Perché magari poi mi servono Per casse O cose Per trovare Del brawler Che alla fine Sono skin Cioè non è che Sono brawler Quindi Tutto Tutto sommato È Morte Io mentre parlo Mi staggo Ha fatto l'errore Ha fatto l'errore No Non l'ho killato Di 28 28 di vita Allora Raga Il video di oggi Finisce qui Noi Ci becchiamo Un prossimo video Bella Ciao Ciao